E' nell'auditorium a lui dedicato, nell'ex chiesa di Bellocchi, che andrà in scena una mostra fotografica sulla vita e sulle opere di Don Lorenzo Milani, uomo di fede, missionario della parola, scrittore e educatore dei più poveri e dei piccoli. L'evento si terrà dal 20 al 28 giugno, ad organizzarlo la parrocchia di San Sebastiano e l'Azione Cattolica Associazione Monsignor Gentili. Lo scorso aprile il Consiglio Pastorale Parrocchiali di Bellocchi ha deciso di dedicare questa sala ristrutturata dell'ex chiesa di Bellocchi a Don Lorenzo Milani. Proprio per questa opportunità l'Azione Cattolica di Bellocchi ha deciso di organizzare, insieme con la parrocchia tutta, questa mostra su questa figura di uomo di fede, di scrittore, ma soprattutto di educatore dei più piccoli e dei più poveri. Quindi questa mostra ripercorrerà la vita e le opere di Don Lorenzo Milani. Abbiamo una parte prettamente fotografica ed anche una parte multimediale. Certamente, la parte fotografica è costituita da 28 pannelli che sono stati realizzati dalla Fondazione Don Lorenzo Milani. Nella sala a fianco alla chiesa, all'aula principale, invece allestiremo una postazione multimediale e anche una proiezione di video che riguardano Don Lorenzo Milani.